Il restyling di Piazza Duomo è in realtà ed è pronto per partire. Entro un mese via l'appalto per la riqualificazione della piazza, dopo il parere favorevole arrivato dalla soprintendenza. Gli uffici tecnici potranno validare il progetto e far partire l'appalto. Il progetto della nuova Piazza Duomo fu presentato a luglio del 2020. Sedute e piante, con richiami all'anticomercato e un'illuminazione che ricorderà le vittime del sisma, con 309 LED e agli estremi simboli dei quattro quarti. Una pavimentazione di pietra bianca, poi all'esterno e grigio all'interno, per resistere al freddo aquilano e ancora con una linea scomparsa senza fili, con una predisposizione per il ritorno del mercato per spettacoli. Ci sono a disposizione circa 7 milioni di euro. L'intervento è inserito nel programma di rigenerazione urbana e territoriale del fondo complementare del PNRR. Si tratta di un passaggio molto significativo per restituire alla città una piazza bella e dignitosa, come hanno sottolineato il sindaco Biondi e il vice sindaco Daniele. Noi abbiamo dei tempi molto stretti che sono dettati dal cronoprogramma del fondo complementare. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione con i tecnici esperti della struttura commissariale. Entro un mese faremo l'affidamento della progettazione, abbiamo lo stanziamento, è tutto pronto, abbiamo un progetto. Ringrazio la sovrintendenza per la celerità con cui ha rilasciato il parere. Siamo pronti a salutare questa opera pubblica che rappresenta, credo, la definitiva consagrazione del superamento della fase post-sisma, perché è il cuore della città, è il luogo di tutti, anche storicamente, e quindi riconsegneremo questo pezzo importante alla comunità, non soltanto a quella aquilana. Purtroppo, da contraltare, fa ancora la cattedrale del Duomo, ferma al sisma del 2009, la speranza di aprire il cantiere in estate, quando potrebbe esserci la visita di Papa Francesco. A questo obiettivo stanno lavorando con molta energia i tecnici del segretariato. In realtà per la cattedrale c'è un progetto esecutivo commissionato dalla Curia per 35 milioni di euro, fatto prima del 2015, quando le competenze sono passate al Ministero. Per il progetto, il primo lotto, sono stanziati 18 milioni di euro, 13 netti, che dovrebbero essere usati per la copertura. È ancora in corso la verifica preventiva dell'intero progetto, che è comunque in una fase molto avanzata, si apprende da fonti del segretariato. Speriamo che il rifacimento della piazza sia anche da preludio alla chiusura del restauro delle quinte anche della piazza con l'avvio dei lavori del Duomo.